salve a tutti da giusi oggi preparo un gelato alla liquirizia molto veloce gli ingredienti che ci occorrono sono 100 grammi di liquirizia pezzi congelata io ho usato quella della aribo 200 grammi di latte senza lattosio congelato a cubetti 50 grammi di zucchero di canna 50 grammi di panna vegetale dopo averla montata a metterla due ore in freezer andiamo a preparare nel boccale metto lo zucchero azione il bimbi 10 secondi velocità 10 riunisco sul fondo adesso aggiungo la liquirizia che dovremo tirare fuori 10 minuti prima dal freezer e il latte da tirare fuori anche questo 10 minuti prima dal freezer azione il bimbi 10 secondi velocità 9 riunisco sul fondo adesso aggiungo la panna azione il bimbi 10 secondi velocità 6 adesso il mio gelato è pronto quindi l'ho perso nelle coppette questa è un'idea che ho avuto per fare un buon gelato veloce potete mettere meno o più liquirizia lasciarlo tritare un po di più io l'ho lasciato così che si sente diciamo un po la liquirizia quindi possiamo mangiarlo anche subito metterlo in freezer e uscirlo 10 minuti prima di servire ed ecco pronto il mio gelato alla liquirizia me l'ha richiesta un'amica che ci segue spero che vi piaccia alla prossima ricetta ciao